Mi piace che voi abbiate questo rapporto diretto col mio amico che ultimamente piange meno. Volevo solo chiederti se ti piace Tony Bennett. No, non mi piace farmi Bennett. Pronto? Pronto? Sì? Sono io. No, non ci credo. Ciao Rambo, come stai? Io ho un caro amico. Questo amico mio ha dei problemi, gli serve uno psicanalista. Non è vero. Sì, te ne potrei consigliare uno bravo anche io. Questo amico è un tizio molto potente. Non aveva mai avuto problemi con niente e adesso all'improvviso casca a pezzi. Lui vuole solo sapere che cosa deve fare per farseli passare. Eh, deve trombare di più. Dai, non fare così. Perché? Rambo. Rambo, ciao eh. Ma stai. Rambo, io devo andare. Ciao Rambo.